La grande equitazione scende in pista a Milano con la Milano-San Siro Jumping Cup 2020, un'avventura equestre che nel corso dell'estate 2020 offrirà uno spettacolo di livello internazionale grazie al CSI in programma all'ippodromo SNAI-La Maura dal 2 al 5 luglio. L'annuncio in occasione di Fiera Cavalli 2019 a Verona ha seguito la via tracciata dall'investitura olimpica per Milano-Cortina 2026 e nell'ottica di un rinnovato impegno con la città, SNAI-TEC ha deciso di contribuire alla già ricca agenda sportiva milanese organizzando uno show di salte ostacoli di livello internazionale. Per noi come azienda è un ulteriore passo verso il completamento di un progetto che è partito 5 anni fa, che era un progetto appunto destinato ad aprire le porte del nostro meraviglioso comprensorio a tante altre iniziative oltre a quelle dell'Ipica del Trotto. In 4 anni abbiamo creato attraverso un circuito virtuoso un vero contenitore di intrattenimento e non solo di sport per la città di Milano e per i milanesi. Questo è il culmine, il coronamento di una serie di sforzi e che porta un concorso equestre di livello internazionale a Milano, Milano piazza che deve, può vantare un concorso del genere e che non aveva la fortuna di avere un avvenimento di questa portata. Vuol dire tanto, vuol dire tanto sicuramente per la città di Milano, dove c'è una grandissima cultura equestre, Milano come la Lombardia, e sono convinta che sia una città e un territorio che sentisse la mancanza di un avvenimento di questo tipo. Quindi prima di tutto vuol dire questo, ma è molto importante per tutto il movimento italiano. Poter annunciare oggi qualche cosa di nuovo e qualcosa che nasce, ma proprio un'avventura, perché è un inizio e poi siamo sicuri di volerlo continuare, credo che sia un patrimonio, un patrimonio di chi lo organizza, ma fatto per gli altri.